Ben tornati a un nuovo video, siamo qua con i premi della nostra Weekend League Allora, prima foto, possiamo vedere qua, apriamo lo schermo, è la squadra della settimana Non mi ispira tanto, ci stanno molti giocatori buoni, ci stanno Bale, Pepe, Lewandowski e All Black Però, di una verità, non è che mi ispira chissà che Spero di trovare una carta decente da buttare nel Caleb giusto per tenere, oppure la buttiamo in SP, se sì Senza perdere te, andiamo direttamente con i premi Alla fine vorrei fare tutti i pacchetti che riuscirò a prendermi, perché mi vorrei fare tutti i player pick possibili Immaginare che posso fare con tutti i giocatori Andiamo con questi qua, non scambiabili tanto, alla fine Il metodo è sempre quello, non scambiabili perché sapete che è sempre fatto Due da 50.000, due zinco orari e due maxi Poi andiamo anche con questo qua, Foto Champion Allora, piccola letto della mia Foto Champion Stava andando abbastanza bene, ho bloccato un po' con la fine perché non volevo giocare Comunque alla fine mi stavo rischiando di fare anche oro 3, non lo stavo facendo oro 3 Per problemi di connessione sono finito a fare quasi oro argento 3, 1 Per una partita non mi riuscivo a connettere bene e ho dovuto perdere un po' di tempo Infatti alla fine sono rimasto due partite e ne ho perso un po' di fila per problemi di connessione Comunque alla fine sono riuscito a portarmi a casa questo oro 3 Perché alla fine è l'unico che riesco a fare molto velocemente, abbastanza easy per me Abbastanza, sperando di puntare sempre in alto Comunque andiamo con i primi due Allora, non mi dico nulla I esci esci Bah Cioè non mi ispirano tanto però Infatti ho visto Avevo ragione io Prendiamo il più scuro Compriamo questo qua giusto Che tiene 87 velocità E allora ho detto Gioca in Spagna 2, va bene Dicono che il loro 3 è quello che si scula di più Ma io in questi anni che ho fatto tutto oro 3 Una volta ho fatto oro 2 Ho sculato nel loro 2, nel loro 3 quasi mai Andiamo con il secondo Lewandowski Così No, però ci dà Cosenz Allora ringrazio che è una bella carta Mi piace come gioca Fa un tutto a fascia Che è veramente cosa di assurdo Però non lo prendo Sono contento di Cosenz Comunque Non contavo molto su questo Contavo più su giocatori normali Che poi Tutti ogni SB si vanno a finire Infatti non ho visto gli SB si Però mi sono riuscito a fare A cicciocaputo Allora Bando alle ciance La squadra Perché io ho fatto cicciocaputo L'unica sfida che mi poteva interessare Uh Iniziamo con un triple tri Ah, Alex Harmon Oh ma andiamo prima con questi pacchetti Ne sono 9 E dicono che voglio fare di più E così per trovarmi più giocatori Da mettere nelle SB Che ce ne voglio in un botto Ok Iniziamo Normale Facciamo si Schippiamo tutte le carte Che non ci interessano Appena vediamo una lavagna Ce la godiamo Se vediamo un walkout Ce la godiamo ancora di più Eh, nel caso Se troviamo giocatori horrorari Da In cambio Li mettiamo su Così Il riciclo sempre Allora abbiamo 3-5 pacchetti Da 5.000 1 scambiabile E 2 non scambiabile Allora a fine non me ne faccio nulla Perché alla fine non si sta Non posso fare nulla Però Ce li guardiamo Adesso andiamo con i zinco orari Se non sbaglio E poi ci teniamo in mega Ok Molte carte mi stanno andando Ottimo Sono abbastanza Contento Perché mi piace fare Molte cose E ho visto che si scula Abbastanza bene Ho trovato molte carte Come il video scorso Che potete vedere Che ho trovato Un botto di carte Anche Futsi Ok andiamo con il primo zinco orari E non ci da nulla Però ci da i giocatori horrorari Questo è importante L'importante è che ci da i giocatori horrorari Che sono quelli là Che più sono Più considerati Ma il questo dice Non è uscito più Ok alla fine Ci buttiamo dentro Ah e poi nel caso Riuscirò a farlo in settimana Vorrei fare anche un pacchetto 81 o più Che l'avete visto 85 giocatori là Però Non è uscito nulla Andiamo con questa Workout If Tedisco chi è Ah Gosens Ok Me lo devi dare più forza Sì rosso Che carta normale Questo è garantito proprio Se non me lo dà rosso Me lo devi dare pure normale Kaif normale Comunque ottimo Non so quanto vale Non lo posso vedere Perché sono non scambiabili Però me lo tengo Per una SPC Futura Ci da pure sotto Un Un nessuno Un po' Lo penso Ok Vediamo se lo riesco a Snitchare No Ok Ho provato Ho provato Ok finiti i zinco orari Andiamo con i 2 mega E poi ci teniamo i 350 mila Ah back to back Workout Easy No Non è back to back Però neanche lavati Anche scripiamo Tanto alla fine Non vedete solo questo qua Ma come in qua Dei nostri premi Ma anche Penso qualche Per gli epic Aggiuntivo Che metterò io Un 4.000 Anche se non faccio Sarò buono sempre Andiamo con l'ultimo mega E poi ci vediamo Questi pacchetti Da 50 mila Dai Abbiamo trovato un buon caldo Fammi trovato un altro No Lavagna Ok Almeno ce la guardiamo Ok Brasile Rao Terzino Ministro Ok Alex Tejas Non mi voglio sbagliare Forse ce l'ho Non mi voglio sbagliare Sì Ce l'ho io Ho indovinato io Spero Ah questo ok Scambiabile Ok Allora lo posso mettere su Così dopo lo aggiungo In quell'altra SPC Che per fortuna Non mi interessa Allora Siamo arrivati Alla botta buona Sono 3 pacchetti Da 50 mila Andiamo con il primo Uno dovrebbe essere Non scambiabile E il resto Sono scambiabili Il primo ci dà un bel Niente Workout Champions Ci dà uno spagnolo Erao Cicci Un bel Cooker O Saul Non lo sa Ah no Rente Peggio ancora Ok Giusto mettere Workout 1-2-2 Ok Ci danno Un botto di giocatori buoni Tutto da buttare All'espisi Ok andiamo con il secondo Pacchetto da 50 mila Dai Non mi fa perdere Il genio Vai Niente col cavo Neanche la L'altro No questa volta Libertadores Quanto di odio questi E rimane l'ultimo A 83 83 Ok ottimo A me non mi ha dato A 83 Questo c'è la doppia Non lo sappiamo Ok si mette Sopra L'ultimo Non lo guardiamo Può essere Portapene E vediamo le statistiche Anzi vediamo Prima i laterali Se danno Una bella luce Bella E poi Vediamo Sarebbe una bella icona Sarebbe male Ok Niente da fare L'uomo che abbaia i cani Ok Ci da Un ram Non ha dato pill Ma no me l'hai dato Ah questa era pure Quello scambiare Comunque Ma come finisce qua Abbiamo trovato Un boycott Su nove pacchetti Che alla fine Era stato quello Senzif Niente di che Niente di se Abbiamo trovato Pacchetti motoscauti Anche i picchi Non so stanno Adesso Andiamo a fare Tutti quelli Che poi ci vediamo Subito Appena L'avrò finito Poi passerà Un secondo Mi passerà Un po' di tempo Adesso ci vediamo Appena Finito Allora Ho riuscito a farne 8 Facciamo con un video scorso Uno lo guardo Uno guardo le statistiche Così E' più intrigante pure me Allora iniziamo il primo Che ce lo guardiamo Dritto per dritto Può essere che ci andiamo subito Ok Subito due walkout Intia subito Vediamo lì 86 Subito 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 Ok iniziamo la bomba L'ho fatti 8 Ho riuscito a fare il massimo Che potevo fare con 8 giocatori Anche il secondo Guardiamo le statistiche Allora Non c'è nessuno Di tutte e tre Il primo 84 retiro Ottimo Il secondo Se 84 retiene pure 84 fisico Il terzo Non mi ispirano tanto Infatti avevo ragione io Prendiamo Sì Andiamo con la serie Andiamo con il Terzo Plichi e picca il primo Andando a bomba Però Iniziamo bene Chi inizia bene Sarà già metà dell'opera Iniziamo col terzo Andiamo col te Questo schietto diretto Un minchia 380 3 è buono Andiamo con Akimino Andiamo con la serie Andiamo con questo che non si guarda Ho fatto 1 e 1 Può esserci da un bello walkout Dai allora Un pure Un giocatore nuovo Allora un champions E due carti ormai Allora il primo E' un portiere Il secondo E' un Buon Penso sia un centrocampista Forse 85 retiro 80 tributando il passaggio Il terzo Non lo so Non mi interessa Ok un altro Tejas Minchia bella la foto di cranio Prendiamo chi in mezzo Perché già ce n'ho due Di Tejas Se non lo so Prende un altro E poi Facciamo un giro Questa volta facciamo Inverso Allora Questo Non si vede Anzi Questo si vede Perché è una balastra Andiamo dritto per dritto Dai 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 Ok Verratti Ottimo 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 Minchia sta dando un botto Abbiamo sbagliato tutti quanti L'83 Buono Buonissimo Andiamo con quest'altro che non si guarda Dai Dammi un walkout Bello Pesante Un whiffo Bello pesante Uno ce l'ho E gli altri due Non vanno il primo Minchia 94 C'è chi potrebbe essere Il secondo E' un bel centrocampista Il terzo Dicevamo un difensore Molto decente Vediamo Ok Facevano pena tutte e tre Comunque andiamo Banea Rafa 93 83 Andiamo con quest'altro Dai dritto Dai 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 Che ce l'ho Dai 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 Ok Io rentano da voda Andiamo con l'ultimo Preglie il picco Vediamo se riusciamo a fare Altri due dopo Ma non ne sono tanto sicuro Però Andiamo Questo non si porta Dai 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 Sono usciti Uno posseduto E l'altro Prima Portiere Secondo Portiere Terzo E' un bel centrocampista 85 Ok Giù la mano Ok E' inista Allora Non mi posso lamentare E' andato ottimo Vi ho trovato due walk out Alla Jufk Berratti Normale Imenez E' un boy 80 183 Che ottimo Ma penso Finiamo qua Nel caso Riuscirò a farne altri Registreremo di nuovo Sennò finiamo qua Spero che il video vi sia piaciuto Non tanto per i play pick Ma soprattutto per questi qua Nuovi Che abbiamo fatto Che si aveva detto Che si sculava E l'abbiamo fatto Abbiamo trovato molte carte buone E che dirci Vediamo la settimana prossima Con noi Player pick Nuovi premi E sperando che Mi dati un supporto Anche voi Cresciamo insieme E mettete like Iscrivetevi al canale Più di questo Non posso fare nulla Perché mi sto mettendo Tutto il mio impegno E spero che Riuscite a capirlo anche voi Ci vediamo La settimana prossima Ciao a tutti